Vaccino anti-covid agli over 80. Lunedì alvia la somministrazione delle dosi nella postazione di Solofra. La sede è quella del centro sociale di Via Melito. 109 le prenotazioni arrivate tramite la piattaforma regionale. Si inizia alle 9 del mattino. I numeri prenotati della prima giornata sono 109 e poi teniamo 18 o 19 riserve per qualcuno che non viene. Gli orari sono dalle 9 di mattina alle 13.30, poi c'è la sanificazione, mezz'ora di spacco e dalle 14 alle 17.